Ben trovati con il consueto appuntamento di Vasto Web in cui parliamo di europei. Questo pomeriggio ci troviamo in compagnia di Corrado Sabatini, politico conosciuto in città, ma parleremo di calcio e di europei, non di politica, in particolare della sfida che c'è stata tra Francia e Germania, una sfida che ha visto i padroni di casa vittoriosi per 2-0. Corrado, che partita è stata? È stata una bella partita, mi è piaciuto, però devo dire che se andava l'Italia in semifinale avremmo vinto contro i francesi, anche per tradizione, difficilmente i francesi ci battono, quindi sicuramente siamo stati un po' sfigati nel momento in cui siamo usciti ai rigori. I francesi, una squadra che si trova lì per caso, perché padrona di casa o perché ha della qualità secondo te? I francesi normalmente quando organizzano la cosa, lo organizzano e se lo vincono pure, sono sempre stati così, perché è un popolo patriottico, quindi hanno sempre cercato la grande R, la grande R è proprio una questione francese. Calcisticamente sono partite molto lentamente, però poi alla fine la squadra è uscita fuori, nel resto hanno i campioni, non è che lo dico io. Cosa è mancata alla Germania, una grandissima squadra, forse la più completa di questo europeo, squadra campione del mondo contro i francesi? Secondo me la Germania per la prima volta ha messo in campo una squadra che oltre alle doti atletiche aveva anche delle doti tecniche eccellenti, secondo me è stato penalizzato perché è mancato il finalizzatore che si è infortunato contro l'Italia e poi sono mancati quei due a centro campo, cioè uno in difesa e uno a centro campo. E' mancato le tre persone più importanti nei rispettivi ruoli, difesa, centro campo e attacco. Avendo visto la partita di ieri, quanto rammarico c'è ad essere usciti così in malo modo, forse in maniera sfortunata, contro la Germania a rigori? Beh, l'ho detto prima, secondo me se fossimo andato noi in semifinale avremmo battuto la Francia, anche perché avremmo chiuso tutti quegli spazi che i francesi sono bravi, perché i francesi, quello che ho visto ieri sera, erano molto bravi nelle ripartenze. Sul campo libero loro avevano delle persone, dei giocatori molto veloci che si inserivano. Contro di noi quel gioco non è che lo riuscivano a farlo. Portogallo-Francia è la finale, chi vincerà questi europei? Se devo dare una previsione a questo punto, la Francia nel momento in cui è andata in finale, penso che lo vinca. Bene, ringraziamo Corrado Sabatini per essere stato con noi, non resta che salutarvi e mi raccomando continuate a seguirci con gli appuntamenti di Vasto Web con gli europei. Grazie, arrivederci. Grazie.